Siamo stati sollecitati dall'associazione Leali di Hauser. Devo dire che io non conoscevo la fibromialgia, ma è una patologia che purtroppo colpisce tantissime persone, soprattutto donne, e crea dei problemi fisici molto importanti, dei dolori che molto spesso diventano patologici e che così compromettono anche lo stile di vita di tantissime persone. Siccome molti degli farmaci o integratori che vengono utilizzati per combattere questa malattia non sono mutuabili, abbiamo deciso di portare questi prodotti, che sono quasi tutti con il marchio farmaciecomunale.t di nostra produzione, con una scontistica del 20%, proprio per venire incontro a chi ha questo tipo di patologia, ma ai tanti che utilizzano integratori, vitamine particolari, anche per tantissime altre malattie. Quindi abbiamo deciso proprio come farmacie comunali di Pesero e di Gabicemare, per non così perdere la finalità con cui sono nate le farmacie comunali, che è quella di venire incontro alle esigenze del cittadino, alla socialità, insomma, essere inseriti nella socialità della città e in tutto quello che riguarda l'aiuto al cittadino. Abbiamo preso questo tipo di iniziativa con questa scontistica, sono oltre 20 prodotti a nostro marchio che mettiamo a disposizione della cittadinanza, degli utenti, delle nostre farmacie. A questi si aggiungono due integratori, anzi sono tre integratori che sono molto importanti, che utilizzano, generalmente vengono prescritti anche questi dai medici, che non sono a nostro marchio, su cui facciamo uno sconto del 10%, per venire incontro a quelle che sono le esigenze di una platea molto vasta dei nostri clienti, dei nostri utenti, che purtroppo non vedono riscontro nel Servizio Sanitario Nazionale in quanto farmaci non mutabili. Per noi è un aiuto molto, molto grande, per noi fibromialgiche intendo. Bellissima questa iniziativa, sono molto emozionata perché sono giorni che ricevo ringraziamenti, sono giorni che dico che il merito non è mio, io ho fatto solamente da portavoce. Il merito è di chi ha accolto questa possibilità, chi ha deciso di darci questo grande aiuto che ancora purtroppo non viene dalla nostra sanità. L'integratore diventa, cioè è di grande utilità, non c'è fibromialgico che non assume integratori, più integratori, quindi le farmacie comunali, Luca Pieri che ha accolto la nostra, diciamo così, preghiera, perché la nostra è veramente stata una preghiera. In questo momento sono le uniche, loro sono stati gli unici che ci hanno dato veramente una mano concreta.